L'ultimo giorno del viaggio di Papa Francesco in Africa inizia dalla moschea di Kuduku, nel pericoloso quartiere chilometro 5 di Bangui, distrutta nel giugno 2014 dalle milizie antibalaca che si definiscono cristiane e ricostruita anche con l'aiuto dei cattolici. Il pontefice la raggiunge con la papamobile senza vetri che usa dal suo arrivo nella capitale della Repubblica Centrafricana, scortato dai caschi blu in camionette blindate. Dopo aver attraversato il mercato con i banchi desolatamente vuoti, il Papa entra nella moschea accolto da cinque imam e sale sul podio allestito ai margini della zona per la preghiera. Dopo il saluto dell'imam Musa Naivi, Francesco sottolinea subito che tra cristiani e musulmani siamo fratelli e quindi dobbiamo comportarci come tali. Le ultime violenze che hanno colpito il Centrafrica, ricorda il Papa, non erano legate a motivi propriamente religiosi e sottolinea che chi dice di credere in Dio deve essere anche un uomo o una donna di pace. Visto che in questo paese cristiani i musulmani e membri delle religioni tradizionali hanno vissuto pacificamente insieme per molti anni, dobbiamo rimanere uniti e dire insieme no all'odio, alla vendetta, alla violenza, in particolare a quella che è perpetrata in nome di una religione o di un Dio. Dio è pace, salam. Il Pontefice ricorda poi che in questi tempi drammatici i leader religiosi musulmani e cristiani hanno giocato un ruolo importante per ristabilire l'armonia e la fraternità tra tutti e che molti centrafricani delle due religioni hanno accolto compatrioti di un'altra confessione religiosa in fuga per le ultime violenze. Augurandosi che le prossime elezioni diano al paese dei governanti che sappiano unire e non rappresentino una fazione, Papa Francesco invita i centrafricani a diventare un esempio di riconciliazione per tutto il continente, aiutandola a spegnere i focolai di tensione ancora presenti. Non solo parole, il Pontefice al termine del discorso si toglie le scarpe e insieme all'imam si raccoglie in preghiera davanti al mirab, la nicchia orientata verso la Mecca. Poi invita l'imam sulla Papa mobile e insieme percorrono le strade del giardino della moschea, acclamati da musulmani e cattolici, molti ospiti del campo profughi allestito accanto alla scuola musulmana di Kuduku.